A tutti gli appassionati di calcio il più cordiale ben ritrovati dal centro sportivo euganio di Presseo di Teolo, provincia di Padova, per la quinta giornata di ritorno del campionato nazionale Primavera. Trofeo Giacinto Facchetti si stanno per affrontare tra pochissimo il Padova ed il Chievo Verona. Quindi un omaggio ma seguiamo subito il Chievo, subito grande azione, palla dentro, partenza sprint dei ragazzi di Mister Nicolato che vogliono mantenere l'imbattibilità nella stagione 2011. Finora due vittorie e due pareggi, Padova che ha un ruolino casalingo non proprio incoraggiante ma bisogna stare molto molto attenti. La forse gamba tesa, tutto regolare per Giorgetti, Pedrocchi sulla sinistra, c'è un uomo a terra, non se ne accorge Pedrocchi che cerca un giro di destro, pallone che sfila di pochissimo. Pallone all'indietro era anche interessante, adesso prova a riproporsi, Ribeiro de Sousa, Robert, attenzione all'ingenuità clamorosa di Coulibaly, Robert, la piazza in bocca a Silvestri, occasione per il Padova. Cerca di portare avanti la palla da lato che vedete nonostante il numero 9 viene a prendersi la palla molto all'indietro, cambia questo bel pallone dove c'è Usman Drame, attenzione all'uno contro uno, cerca di andarsene in doppio passo su Silvestri, ancora occasione. mette fuori Pedrocchi, velocissimi gli attaccanti del Padova, ragiona delle belle giocate qui Diengouwe, parte l'avventura, attenzione, ma in pressing e si beccherà il giallo anche lui. Ingenuità clamorosa perché è doppia munizione, è doppia munizione e il Chievo è già in 10 signori, 23 minuti di gioco, Chievo già in 10, ingenuità clamorosa. De Fodor mette fuori ma ancora sui piedi dei Padovani, talato, attenzione perché mette giù, ha dimostrato di avere un bel destro, ci prova anche da fermo. Dal secondo tempo, Mari Vojtos qui sui centimetri là davanti potrebbe tornare utile, Gallo per Tonani, contro due, attenzione sul braccio, ancora Tonani, prova il destro, murato all'ultimo. Proprio dal, ne è entrato Girdvainis se non andiamo errati, non riesce a correggere, Scheu che regala ancora la palla al Padova, dentro, attenzione a De Souza, attenzione perché riesce ad incunearsi, destro, e questa è una chance pericolosa per il Padova. Girdvainis mette giù, su Tonani in pressing, attenzione perché lascia correre l'arbitro, Tonani due contro due, Tonani che cerca lo spazio per il sinistro, si infila Tonani, pallone un po' ciabattato, peccato. Ultime battute di un match che non ha regalato grandissime emozioni, attenzione adesso la palla che però passa, errore, incredibile, stava per saltare fuori il gollonzo dell'anno signori. L'iscio di Fodor che poi rinvia nuovamente sulla schiena di Dramè e per poco non la combinava grossa, Silvestri totale controtempo, non avrebbe potuto farci nulla. Pallone che si è perso di un paio di metri alla sua sinistra ma uno dei maggiori brividi del Padova è arrivato su questo tipo di occasione. Specchio di una partita che non poteva finire altro che 0 a 0 amici sportivi, Chievo che sale in classifica quindi a 34 punti, Padova che invece sale a 19 a sua volta. Chievo che ha resistito in 10 contro 11 dal 25esimo del primo tempo, quindi il pareggio seppur di 0 a 0 non è proprio da buttare.